Napoli è la prima città d'Italia per capacità di progettazione e di spesa dei fondi europei del POM Metro 2014-2020, il programma sperimentale di investimenti che coinvolge i 14 capoluoghi delle aree metropolitane nazionali. I risultati del lavoro degli ultimi tre anni sono stati presentati questa mattina a Palazzo San Giacomo. 13 milioni e mezzo di euro, l'obiettivo fissato al 31 dicembre 2018, il Comune di Napoli ha raggiunto il 169% del risultato atteso, piazzandosi al primo posto fra le città italiane. Per questo si candida ad ottenere un bonus di 5 milioni e mezzo dalla Commissione europea. Abbiamo il fiore all'occhiello che riguarda l'acquisto degli autobus per circa 14 milioni, ma il vantaggio di questa città è stato poter spendere su più fronti, per cui molti più interventi che sono partiti contemporaneamente. In questa situazione nuova anche per noi come struttura abbiamo risposto positivamente con un'organizzazione adeguata, efficiente, fatta di persone che ci mettono passione, ci mettono volontà e che alla fine ottengono risultati. I progetti confinanziati con i fondi europei del POM Metro riguardano il territorio del Comune di Napoli o in alcuni casi l'intera area metropolitana e vanno dal trasporto pubblico all'Agenzia Sociale per la Casa, dalla tutela delle persone più fragili alle nuove tecnologie per i servizi digitali al cittadino. Napoli ha raggiunto un risultato straordinario. Rispetto alle altre 13 città metropolitane si è posizionata prima raggiungendo il 169% degli obiettivi programmati. Il motivo di eccellenza è il carattere sperimentale e innovativo, è il fatto di ascoltare cittadini e imprese, è il fatto di leggere le necessità della città e rapidamente metterle a sistema e quindi pensare a interventi e senza avere tempi morti all'interno degli atti amministrativi e di indirizzo si è potuto raggiungere questo obiettivo. I fondi europei si spendono se ci si organizza in un certo modo, se si programma bene il POM Metro è un esempio di ottima programmazione. Grazie a tutti.